Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Interfactor, il nuovo talent per scegliere il nuovo allenatore dell'Inter. Questa sera i quattro giudici mostreranno i loro quattro candidati, ma andiamo subito a presentarli. Il primo giudice, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moretti. Ecco un paio di belle, buonasera a tutti, buonasera. Il secondo giudice, il Tohir. E' il turno del terzo giudice, il nostro capitano, Mauro Riccardi. Mauro, sei venuto a presentarci il tuo nuovo libro, vero? Sì, è nata mia figlia qualche giorno fa e oggi esce la sua autobiografia. E infine il quarto giudice, il presidente Suning. Prima di iniziare con i candidati, vi chiedo, come mai avete deciso di esonerare il Cyborg de Burr? Ma insomma, Javier, avete deciso di esonerare un paio di belle. Hanno deciso questi due qua, questi due Viet Cong. Il De Burr, poverato, non è che ha colpe. Il problema è che qua in società non si capisce più un cazzo. La colpa è di chi è seduto qua a questo tavolo. Ma ormai la cazzata l'abbiamo fatta e quindi andiamo avanti. Ecco dunque i candidati e vi ricordiamo che il vincitore vincerà un contratto dei due mesi con l'Inter come quello di De Burr e un ingresso macio al centro massaggi cinese Happy Ending, gestito dal Suning. Ci siamo, ogni giudice ha scelto il suo candidato. Eccoli, il candidato del Suning è... Donald Trump! Cavolo, non sapevo che facessi anche l'allenatore. Ma va a cagare, va Suning! Lo vedete che cazzo siamo in mano? FUSA INDA! Veniamo al secondo candidato. E il candidato del TORIR è... PENAPOL PEN! Hai il cinese? Hai il donesiano? Hai forza inda? Bravo, bravessemo! Bravessemo, bravo! Forza inda, forza inda! E il candidato del nostro capitano Mario Riccardi è... Diletta Leotta! A cagare verso, qua penso soltanto alla figa. Penso soltanto a Czulere. Bella Leotta, bella! Bravo, marito, bravo! Forza inda, forza inda, forza inda, forza inda! L'ultimo candidato del presidente Moratti è... Stefano Pioli. Sì, insomma, è l'unico che poteva venire. Non è un gran chiesa, insomma. Ma gli altri sono rifiutati, quindi ho scelto il Pioli. Bravo, Massimino! Grande Pioli! 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 Fratello di Blushley! Grande come attenta cinese! Pioli! La vecchia gara è vera cinese! Ci siamo! Ecco i quattro candidati. Sareste voi a votare da casa? Ma in attesa del vincitore, in panchina, cederà l'allenatore della primavera, Vecchi. Gianluca Vecchi, che si esibirà proprio davanti ai giudici. Viare le votazioni, il candidato lo scegliete voi. Comentate sotto il video con il nome del vostro candidato preferito. Donald Trump, di Letta Leotta, Penna Polpen, oppure Pioli. E anche c'è Luca Vecchi. E seguite gli altri gol su YouTube e iscrivetevi al loro canale. Votate, votate, votate!